e allora eccoci qua con alessandra rocchetti capitano di tante avventure con la lazio finalmente promosso in elite e cosa ne pensi e quali sono le tue sensazioni rispetto a questa promozione e sono molto felice ed emozionata di questa promozione è stato diciamo una la ciliegina sulla torta di un campionato comunque che ha iniziato già nella coppa italia che abbiamo battuto le le campionesse siamo state eliminate dalle vice anche quasi meritatamente però poi tutto il campionato sia il girone che i playoff ce la siamo siamo state sempre concentrare molto brave tecnicamente e pronte ce lo siamo portati a casa con grande merito allora alessandra sei qua nella lazio da sempre io in telecronaca mi sono lasciato un po andare ho detto parlando dei guerzoni francesca alessandra sono la lazio rovio ma penso che sia una cosa vera diciamo questa dopo tutti questi anni quindi che cos'è per te questo questo successo sicuramente un traguardo che aspettavo da tanto e che da iniziato dall under 10 quindi sicuramente è stato tanto voluto finalmente l'abbiamo raggiunto e non posso essere contentissima per questa per questa promozione quindi super contenta e orgogliosa allora adesso ultima domanda in elite naturalmente cosa potremmo fare insomma in elite dobbiamo rimanerci dobbiamo rimanerci l'obiettivo è la salvezza e vedo che dietro voi comunque crescono anche infatti c'è un applauso grande anche oggi sono state molto presenti nella partita tutte le ragazze più piccole che saranno poi il nostro futuro quindi loro sono state veramente sono accompagnate in quasi tutte le partite e sono negli allenamenti sono state veramente stanno crescendo molto forti e siamo orgogliosi anche di loro allora complimenti alessandra e per questo traguardo ma soprattutto per i tuoi 13 anni di militanza a risentirci a tutti ciao 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 ciao